Mi sono diventito tantissimo perché era un film, poi fra l'altro facemmo praticamente una doppietta perché il 2 e il 3 avevano usato il set praticamente, non dico contemporaneo, ma insomma avevano girato anche il 3 mentre facevano il 2 perché così anche lì, pure gli americani ogni tanto risparmiano. E quindi mi sono trovato a fare tutte e due, hanno avuto un grande successo, obiettivamente la mia voce si attagliava bene a quella di Marty McFly, prova ne è stata che l'ho doppiato fino a che purtroppo poi, ah in casa Keaton, non so se vi ricordate. Grazie